Salve a tutti! Oggi voglio parlare dell'IR21-53. Che cos'è l'IR21-53? È un driver per mezzi ponte, quindi per MOSFET montati in modalità mezzo ponte e che ha una particolarità, ovvero anche se è un driver, non ha la necessità di essere comandato da segnali esterni, in quanto come specificato è auto oscillante. Quindi risulta essere un integrato davvero molto comodo e utile per realizzare alcuni semplici circuitini, qualche semplice progettino, soprattutto dovuto anche al fatto che è molto economico e ampiamente reperibile online. Andiamo a vedere quali sono le sue principali caratteristiche. Può lavorare fino a una tensione di 600 volt, ovvero questa tensione si riferisce alla tensione sul nodo switching del mezzo ponte, quindi in pratica la tensione di lavoro sulla parte di potenza. Ha un duty cycle fisso e regolato internamente pari al 50%, possiede una corrente di driving di più 200mA e di meno 400mA, quindi la fase di carica e discarica del gate, che risulta essere una corrente non molto elevata, ma sufficiente per applicazioni in media potenza e per MOSFET veloci. Possiede un diodo interno che consente di autoregolare l'alimentazione massima che arriva all'integrato a un valore di 15,6 volt. E questa è una caratteristica davvero molto importante in quanto consente di generare l'alimentazione dell'integrato direttamente da una tensione più alta che magari è la tensione di lavoro del mezzo ponte, quindi attraverso delle resistenze si va ad effettuare appunto un clamping della tensione ed è molto utile perché in questo modo non abbiamo bisogno di prevedere dispositivi esterni che la vanno a generare. infine abbiamo che genera un dead time interno di 1,2 microsecondi. Questo valore è molto elevato, quindi come svantaggio abbiamo che questo circuito non potrà lavorare a frequenze altissime, ma in genere per applicazioni di potenza non si sale molto in frequenza, mentre ha come vantaggio il fatto che un periodo di dead time così lungo garantisce che non ci siano fenomeni di cross conduction nel mezzo ponte. passiamo adesso a vedere quella che è l'applicazione tipica di questo circuito e che viene anche riportato sul datasheet. In sostanza è un integrato a 8 pin dove possiamo vedere il pin di alimentazione, i due pin dedicati alla generazione della frequenza di oscillazione, quindi attraverso una resistenza e un condensatore si andrà a generare il periodo e poi abbiamo il pin di ground. Mentre dall'altra parte, ovvero la parte dedicata al mezzo ponte, possiamo subito incontrare un diodo di bootstrap che connesso a questo nodo e attraverso questa capacità di bootstrap che poi sarà connessa al nodo switching, si va a generare la tensione che va ad alimentare l'eye side, quindi attraverso la resistenza di gate si va ad alimentare l'eye side del mezzo ponte, mentre per quanto riguarda il segnale di low side, questo viene alimentato internamente attraverso un collegamento con la VCC, quindi la tensione di alimentazione dell'integrato. La frequenza di oscillazione del driver è calcolabile con la formula riportata sul datasheet che è la seguente ed inoltre viene specificato di non superare il valore limite inferiore dei componenti CT ed RT, soprattutto quello di RT in quanto se fosse più basso di 10 kg potrebbe andare a bruciare la porta che dà corrente a questo ramo. Molto bene, quindi ora andrò a montare questo driver su una breadboard che ve lo faccio vedere sarebbe questo qui, gli costruisco tutta la circuiteria necessaria intorno e andremo a vedere qualche forma d'onda sull'oscilloscopio di come funziona effettivamente. Ho montato il circuito sulla breadboard, i valori di RT e CT sono di 10 kg e 1 nF. Il driver andrà a comandare due mosfet messi come mezzo ponte. Ho usato il part number IRFZ44N quindi mosfet di potenza e adesso andremo a vedere sull'oscilloscopio qualche forma d'onda caratteristica di questo driver. Molto bene, iniziamo col vedere l'andamento della tensione sul nodo switching, quindi sul nodo centrale del mezzo ponte. È quella che vediamo in questo momento, la forma d'onda di colore giallo e come possiamo vedere ha una frequenza di 46,3 kHz e un duty cycle perfettamente del 50%. E quindi tutto il circuito, sia il driver che il mezzo ponte, sta funzionando perfettamente perché si può vedere che quel nodo passa da un livello alto di tensione, quindi pari all'alimentazione che ho messo, ovvero di 12V e poi l'altra metà del periodo passa a un livello basso, quindi quando è alto è acceso il mos alto, quando è basso è acceso il mos basso. Andiamo adesso a vedere come si comportano i segnali di gate dei due mosfet. Ho connesso le sonde ai due gate ed ecco quello che vediamo. In pratica la forma d'onda gialla si riferisce al gate del mos alto, mentre la forma d'onda blu si riferisce al gate del mos basso. Come si può notare c'è una bella differenza di tensione tra questi due segnali, soprattutto per quanto riguarda il segnale di accensione del mos alto, infatti sono costretto a scalarlo per per vederlo alla stessa altezza di quello del mos basso. Quindi adesso il segnale blu ha un divisore che è 5V, mentre il giallo è di 10V. E questo è del tutto normale ed è l'effetto proprio del bootstrap. Ora quello che voglio vedere è se il dead time dichiarato sul datasheet è corretto, quindi se vediamo 1,2 microsecondi. Per farlo vado qui, mettiamo i cursori, quindi in questo punto il segnale di gate alto va basso e in questo punto il segnale di gate basso va alto. E possiamo vedere qui che è pari a una differenza di 1 microsecondo, virgola 06, perfettamente coerente con quando dichiarato sul datasheet. Anche se vado a vedere l'altro dead time. ecco qui abbiamo che anche in questo caso la differenza di quando il segnale del gate basso va basso e di quando il segnale del gate alto va alto c'è una differenza di 1,16 microsecondi. Quindi perfettamente in linea con quando dichiarato sul datasheet. Ciò che invece non torna molto è la frequenza, in quanto con i valori che ho inserito di resistenza e di condensatore avrei dovuto vedere una frequenza di circa 70 kHz. Però non vorrei che questo fosse dovuto a delle piccole differenze differenze delle tolleranze dei componenti che ho messo. Infatti osservando quella formula si vede che piccole differenze dei valori causano una grande differenza della frequenza di uscita, soprattutto quando si mettono dei condensatori di bassa capacità come quello che ho messo io. Molto bene! Quindi a parte questi piccoli problemi di regolazione direi che questo driver funziona perfettamente. Molto bene! Quindi abbiamo visto il funzionamento di questo driver a mezzo ponte che risulta essere davvero molto semplice da usare in quanto come abbiamo potuto vedere la circuiteria di cui necessita è davvero ristretta. Quindi risulta davvero molto utile per costruire dei circuiti elettronici in svariati campi applicativi. Molto bene! Per questo video quindi è tutto. Alla prossima!